Le truffe sui fondi europei per l'agricoltura, 37 ordinanze, parla Giuseppe Antoci. Buongiorno dalla TGR Sicilia, un'operazione a largo raggio questa mattina all'alba contro le clan dei Nebrodi con 37 misure cautelari per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di stupefacenti, oltre che truffa all'Unione Europea. Importante per le indagini il contributo di tre collaboratori di giustizia, il servizio di Duilio Calarco. A quattro anni dal blitz che stroncò il business delle truffe in agricoltura, i danni dell'Unione Europea e dell'Agea, una nuova operazione interforze contro la mafia dei Nebrodi, eseguita da carabinieri del ROS e del reparto tutela agroalimentare, polizia e guardia di finanza, ha colpito ancora una volta i gruppi dei Bontemposcavo e dei Batanesi, 23 le persone arrestate, di cui due ai domiciliari, 14 le ordinanze interdittive della sospensione dall'esercizio di attività imprenditoriali. Quell'organizzazione mafiosa, nella sua articolazione dei Bontemposcavo e dei Batanesi, ha continuato ad operare anche dopo gli arresti Nebrodi. Scaturita anche dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia del clan dei Batanesi, l'indagine ha portato al sequestro di somme per oltre 750 mila euro e di 349 titoli Agea, definiti tossici acquisiti in maniera fraudolenta. Menti molto raffinate, cioè su persone che comunque li sanno affiancare, li sanno guidare, e gli consentono di approfittare di questi strumenti. L'associazione criminale era dedita anche alle estorsioni indirizzate verso i privati per accaparrarsi i terreni da destinare al pascolo e alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. In particolare marijuana e cocaina che rappresenta il volano economico delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, così come anche in questo territorio. In primo grado ai 91 imputati della prima maxi operazione Nebrodi sono stati inflitti complessivamente a oltre 600 anni di carcere. E per l'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che ha subito un attentato e intimidazioni ogni inchiesta e ogni operazione delle forze dell'ordine è un passo avanti nel percorso della legalità. Lo ha intervistato Agnese Licata. È un segnale importante proprio in questi giorni, dove gli agricoltori stanno protestando e in fondo quei fondi europei per l'agricoltura dovevano andare a loro, non certamente alle famiglie mafiose. Questo è stato un risultato importante, un ulteriore passo avanti. Giuseppe Antoci, da ex presidente del Parco dei Nebrodi e soprattutto da ideatore del protocollo di legalità diventato nel 2017 legge dello Stato, commenta così la nuova inchiesta contro la cosiddetta mafia dei pascoli. Gli ultimi arresti dimostrano, spiega Antoci, quanto la norma funzioni e continui a fare male, obbligando a fornire una documentazione antimafia chiunque usi concessioni demaniali per ottenere fondi europei. Anche questa volta le minacce sono evidenti, i tentativi di estorsioni, cioè quello di unire l'aggravante mafioso alla vicenda dei fondi europei dell'agricoltura era diventato, non solo nei territori del Nebbi, non solo in Sicilia, ma a quanto pare da indagini importanti, non solo in Italia, perché si parla della Corsica, della Slovacchia, c'è un tema importante dal quale tirar fuori milioni di euro senza rischiare nulla. I fondi vanno dati a coloro che la mattina si alzano alle 4 e vanno letto la sera tardi con la schiena rotta e stanchi. Ecco, non certamente a coloro che utilizzavano campi di calcio, un pezzo del terreno della base nato di Niscemi del Muos, o altre, la riserva di Marzabotto a Bologna, insomma, una vicenda che di normalità non ha nulla. Nell'inchiesta specifica di oggi cosa l'ha colpita di più? Che loro non si fermano, che loro comunque continuano a tentare di recepire questi fondi, che erano dei fondi a rischio zero. Per la sua battaglia contro la mafia dei Pascoli, Antoci da anni vive sotto scorta e nel 2016 è stato vittima di un attentato.